Madonnina del sapione, risaliamo, 41, no? E poi se qualcuno c'è ancora voglia andiamo a fare un factory. Non perdiamoci in dissertazione. Vai, ok. Guida, guida. Ma se viene sempre quella, se qualcuno c'è ancora batteria, poi. Che bello, ma che giornata che è uscita? Ma no, ma vaffanculo, la risalita. La risalita se la registro io. E poi la discesa, ciao. Che pienone! Cos'è che c'è qua? Vai qua. Ma no, ma non vanno in bici. Ah, grande. Più leggero il tuo, il mio è grosso. Ma che bestia che è in confronto al tuo. Ragazzi, si aggiunge Tommaso. Qui siamo gli spacca sassi. Ci piace andare in bici. In uscita che abbiamo, l'importante è stare in compagnia. E si riscola di spacca, ci ha uscita. Spacca sassi, spacca sassi. Sei bravo Tommaso. Come? Ma... Ma... Appena ho iniziato ad andare, ho iniziato a... A novembre. Ma come appena? Dai, cosa facevi? Cross? Io faccio il Supermotard. Faccio asfalto terra, quindi... Iniziamo male. Oh! Che giolli! Iniziamo male. Stefano, vuoi andare avanti? Luca, grazie, ciao. Ciao, ciao. Qua via di culo di brutto a me. Eeeh! Che sgonfia. Non è che si può pretendere qui di Tommaso. No, ma è proprio sgonfia. Vai pure Tommaso. Questa è rovinata. Sta lì di... Ah, qui? Eh. Come in? Come in? Si. Luca, l'ho seguito te, hai scelto la via più difficile. Questo pezzo qua? Volendo? Bella. C'è l'alternativa? Si. La pistaglia esbiciata. Faccio il colpo di ruota. E' l'unica. Si fa... Cos'è? No, hai perso un raggio. Un raggio? Qua. Eccolo qua. Conservalo. Però... Si è spanato. Ma sono molli? No. Mi sa che hai preso... Si. Un ramo? Non è lo zaino? Guarda, mettilo il mio. E' troppo forte. Ma no. Fa fortissimo Tommaso. Si, si. Mi devo cascare? Si. Mi devo cascare? La roccia. Ehi. 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 Si. Ok, dai. Chi è che l'ha già fatto? Nessuno. Mai. Però secondo me bisogna arrivare... Devi partire da la eh. Partire da la. C'è qui di stare un po' vicino. Si, si. Andiamo? Si. Si. Io sono caduto! Si! Ehi! Meglio a destra. Ehi! Ehi. 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 Via, merda No, siamo tornati dietro per fare il tiro obiettivo, diciamo. L'hai fatto quel film? L'abbiamo fatto, sì, sì. L'ho preso troppo forte, secondo me. Anche io? Io mi sono ribaltato. Non sei a mandare di nuovo? Sì, non mi sono arrivato. Sono andato veramente lungo, ho detto, per non rischiare di spaccare il cerchio, l'abbiamo preso forte, io sono andato arrivato sull'erba, poi boh. Dopo, però acquisisci. Quanti? Un campeggio. Sì, bravo. Questa è ancora? Sì. Madonna. Perché? Un'appiattata. Festa centica. Che cosa è stata organizzata? Si, era una festa centica. Beh? Ah, addirittura gendetti. e alla prossima ciao siamo a casa ci piace andare in bici ma ogni uscita cadiamo l'importante a stare in compagnia anche se rischiamo di spaccarci ogni uscita